Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e oggi andiamo a vedere come fare la prima configurazione dell'Apple iMac 24 pollici M1 di fatto il modello è 1719€, forse la soluzione migliore in termini di acquisto computer che vedremo ovviamente in fase di recensione quindi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, lasciate un like se questo video vi piacerà iniziamo subito e vi ricordo che nelle schede trovate anche l'unboxing completo che di fatto è un'esperienza vera e propria quindi vi consiglio di vederlo e detto questo appunto partiamo con la configurazione un precedimento semplice giusto per dare un contenuto in più dopo aver visto l'unboxing che vi lascio all'interno delle schede iniziamo subito andando a premere sulla nostra lingua quindi aspettando che carica questo è l'iMac nuovo da 24 pollici un processore M1 presumo che lo conosciate e di fatto ci sono tutti i link in descrizione nonché appunto l'unboxing nelle schede in cui vediamo tutte le caratteristiche di questo nuovo computer di Apple di cui andiamo a settare per il momento il wifi è il modello da 1719 euro che di fatti potrebbe essere davvero un'ottima scelta a fronte dell'iter attuale quindi quello lì relativo al fatto che non ci sono molti componenti sul mercato e che i prezzi si sono alzati soprattutto per le schede video come vediamo è possibile fare una migrazione da un altro nostro dispositivo in questo caso lo voglio utilizzare ex novo quindi clicco su non ora potrei anche ripristinare non solo da un Mac ma anche da un computer Windows adesso vado con il mio account Apple dopo aver inserito i dati vediamo che c'è anche la sincronizzazione con iCloud quindi dati che ho direttamente sul cloud di Apple io ho lo spazio standard se apriamo tutte le fotografie magari anche un iPhone eccetera saremo automaticamente con l'id Apple come sempre allineati con tutti quelli che sono i nostri file e il nostro lavoro quindi di fatto la configurazione è quasi fatta a questo punto se abbiamo già dei dati noi stiamo vedendo invece se lo vado a fare ex nuovo però l'account Apple mi dà una grossa mano dopo le configurazioni standard relative anche alla condivisione dei dati procedo e posso avere anche informazioni sul tempo d'utilizzo comunque tutte le nuove funzionalità che abbiamo visto anche su iOS quindi inseriamo anche Siri è fatto una Siri velocemente vediamo che anche questo è stato abilitato possiamo condividere la nostra registrazione anche se in forma anonima io contribuisco sempre e in questo caso abbiamo terminato quello che riguarda la parte di configurazione con gli aiuti e tutto il resto posso attivare la codifica del file vault posso disabilitare in questo caso che non ne ho bisogno e ho anche il Touch ID quindi posso configurare il Touch ID sulla tastiera procedo e vado a posizionare il mio dito sulla tastiera con il Touch ID che questa qui è il modello a 719€ che integra anche la tastiera con il Touch ID quindi procedo a fare una configurazione come abbiamo visto tante volte su un iPhone quindi in modo molto semplice come se stessimo sbloccando appunto il telefono o anche gli ultimi MacBook Pro quelli che hanno il Touch ID integrato nel pulsante di accensione quindi vado una volta fatto a configurarlo a inserirlo posso configurare anche Apple Pay ma in questo momento non ne ho chissà quale necessità dovrei andare su configura più tardi vado con il tema scuro perché comunque lo preferisco in ottica sia di risparmio abbiamo il monitor True Tone in questo caso che ci protegge anche dalla luce blu e si regola automaticamente in base all'illuminazione della stanza e fatto questo siamo sul desktop siamo pronti a utilizzare il computer che come vediamo effettivamente è il classico Mac OS che conosciamo in questo caso è Spoglio essendo ex novo 256 GB di SSD che dovrebbe andare bene per tutti gli utilizzi che devo fare questa è la configurazione iniziale come abbiamo visto molto semplice basta inserire i nostri dati e l'ottica dell'account Apple a cui siamo abituati vi lascio il video nelle schede relative al unboxing e appena uscirà anche la recensione completa di questo Apple iMac 24 pollici nuovo modello che è disponibile in vari colori molto bello al primo impatto bisogna dare comunque questa impressione iniziale soprattutto lato schermo e molto importante dato che ci troviamo beh a questo punto andiamo a dare anche un'occhiata a quelli che sono i modelli disponibili quindi andiamo sul sito di Apple e all'effettivo andiamo sui iMac e vediamo che versioni sono disponibili le versioni disponibili sono in vari colori prima di tutto come abbiamo visto e di fatto questo è il modello da 1719 euro lo faccio vedere anche da più da vicino che integra la GPU a 8 core possiamo arrivare anche ad un livello superiore con il modello che ha mezzo terabyte di SSD tuttavia comunque io vi consiglio questo qui intermedio perché integra le porte Thunderbolt USB 4 USB 3 tutte di tipo C mentre da quest'altra parte il modello iniziale ha a disposizione solo due porte per i collegamenti esterni molto meglio quello da 4 per il resto beh il resto è personalizzabile la colorazione la parte tecnica quindi l'hardware si può espandere nell'ottica sia di 16 GB RAM che possono sicuramente darci una mano speciale se facciamo editing video in 4K anche se questo dovrebbe essere sufficiente e aumentare l'SSD fino a 2 TB cosa che non consiglio onestamente perché arriviamo ad un costo veramente proibitivo inoltre possiamo aggiungere il trackpad oltre al MegaGeek Mouse averli tutti e due oppure utilizzare solo il trackpad detto questo quindi è tutto per questo Apple iMac 24 pollici appunto come prima configurazione io vi saluto vi invito a lasciare un like qui sotto per sostenere i video sul canale iscrivervi per non perdere i prossimi video per qualsiasi domanda ci sentiamo quindi come sempre nei commenti un saluto a tutti e al prossimo video a tutti